A Cremona ho passato due anni, uno molto positivo e l'altro negativo per i risultati. Ho conosciuto persone fantastiche da iniziare dal presidente Vanoli e immagino che sarà una bella partita. Sicuramente giocando lì era sempre quando si andava in una squadra forte come Venezia, Milano, è provare a far l'impossibile per portare i punti a casa, quindi sarà una squadra molto ostica e dovremo prepararci di conseguenza. Sicuramente convolgersi ognuno di noi, evitare di permettere di avere subito la palla in mano per correre e far canestri veloci, e la loro caratteristica migliore. Il controllo della partita e dei momenti che vede la partita li dobbiamo avere sicuramente noi. C'è stato del positivo quest'estate con un gruppo di ragazzi, adesso sarà tornato un paio di maniche perché sarà un nuovo gruppo. Abbiamo poco tempo per lavorare insieme ma speriamo di sfruttarlo al meglio e ringrazio Cossacchetti sicuramente per la convocazione.